Nessun nuovo caso di contagio da Covid-19 in Abruzzo, dove dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 3.328 casi positivi. 19 pazienti, meno 3 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 0 invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 124, meno 4 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 466 pazienti deceduti, più uno rispetto a ieri, 2.719 dimessi guariti, più 6 rispetto a ieri, di cui 12 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid sono diventati asintomatici e 2.707 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 143, con una diminuzione di 7 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 115.176 test. Del totale dei casi positivi 241 sono residenti o domiciliati nella provincia dell'Aquila, 827 in provincia di Chieti, 1.598 in provincia di Pescara, 633 in provincia di Teramo, 26 fuori regione, mentre per tre casi non è indicata la provenienza.